E' impari, il Fugile Bresciano infatti non ha nel suo curriculum grosse carte di credito. Professionista dal 1988, ha avuto una chance per il titolo italiano nel 91, ma fu sconfitto per ferita da Luigi Lagrasta. Per il resto, nulla di interessante. Efrem Calamati, di contro, professionista dal 1985, diventò campione italiano nell'88 ed Europa l'anno seguente. Il titolo continentale per ben quattro volte, fino ad arrivare a quel 24 agosto, e dalla sconfitta pesantissima con l'inglese Pat Barrett. Tendiamo agosto del 1990, poi un anno di pausa per riordinare le idee ed ecco la riconquista del tricolore del novembre del 91 contro Bottero, quindi due difese. Ed eccoci qui, questa sera, per ribadire una superiorità nazionale e per buttare un interesse, un occhio interessato al mondiale WBO, detenuto dal messicano González. È un progetto da parte di Efrem Calamati e di Renzo Spagnoli che lo supporta per quanto riguarda l'organizzazione. Renzo Spagnoli organizza anche questa serata in collaborazione con il comune di Gualdo Tadino. Peraltro vi è anche una strada che porta di nuovo al titolo europeo, detenuto dalla francese Valérie Chialve Cajomba. Ma i rischi di andare a combattere in Francia sono notevoli, la borsa è irrisoria, per cui appare più percorribile la strada per il titolo mondiale, ammesso che si riesca a portare in Italia il messicano González. Efrem Calamati, lo vedremo in pantaloncini bianchi con guarnizioni rosse e della colonia Gresta Chiavolotti al suo attivo a 32 vittorie ed una sola sconfitta, quella con Pat Barrett, l'abbiamo ricordata, nel 1990. Al peso questa mattina ha fatto segnare 63 kg e 100 grammi. Ricordiamo che è nato ad Arezzo il primo luglio del 64, dello stesso anno, 2 agosto, è Maurizio Trolongo, è nato a Tripoli ma è un bresciano. Colonia Loretti, 14 vittorie, 2 sconfitte, 2 verdette di parità, al peso 63 kg, per cui ambedue ben al di sotto del limite di categoria del superleggeri che ricordiamo è fissato in 63 kg e 500 e 3 grammi. Ed eccoci alla prima ripresa, ricordiamo Efrem Calamati, pantaloncini bianchi con guarnizioni rosse, tra longo, pantaloncini celesti con vistosa fascia bianca alla cintura. Niente da dire per quanto riguarda l'esperienza tra i due pugili, un ex campione europeo, Calamati, ricordiamo, ha combattuto 6 volte per il titolo europeo, considerando il match della conquista contro un Calanchetè. Poi le 4 difese, infine quella quinta difesa a Salerno, il 24 agosto del 90, quando fu sconfitto per K.O. alla quarta ripresa da Pat Barrett che poi divenne anche campione mondiale. Prima ripresa, ricordiamo che ovviamente l'incontro è previsto sulla distanza delle 12 riprese. L'arbitro dell'incontro è il signor Montagnini di Perugia, giudici Vacatello di Torino e Attolini di La Spezia. Il medico del campione italiano è Lamberto Boranga, il medico della serata, il dottor Nicola Zizzi. Il dottor Boranga è salito alla cronaca in questi ultimi tempi per il suo ritorno all'attività agonistica, calcistica. Iniziativa costantemente nelle mani di Calamati che ha conquistato il centro del quadrato. Intanto gli applausi che sentite salutano dall'arrivo qui alla palasporta di Gualdo Tadino di Gianfranco Rosi, campione mondiale dei Super Welfare. Il protagonista dieci giorni fa di una difesa di titolo mondiale, di una grandiosità notevolissima. grande sinistro di Calamati che Tralongo sente, lo sente tutto. è indubbio che Tralongo è un pugile che si descrive come dotato di una grossa compatibilità. Fino a questo momento non ha potuto ancora far vedere nulla delle sue caratteristiche. Ora è un destro che scatta da parte di Tralongo, assorbito comunque da un pronto arretramento di Calamati. è chiaro che Tralongo si rende conto di avere di fronte una fuggile che lo sovrasta come classe d'esperienza, ma normalmente in qualsiasi incontro di fuggilato la risposta vera viene data solo e unicamente da Arling. Tutto quanto è scritto nei vari curriculum di frequente ha una importanza non determinante. Termina la prima ripresa, una prima ripresa su un piano di sostanziale parità. Una preferenza per Efrem Calamati proprio in virtù di quel sinistro che si è stampato con lucidità sul volto del proprio avversario. Poi dovrò pregare Renzo Spagnoli di portare qui Gianfranco Rosi fare una presenza scontata, mentre Nazareno Balani ci ripropone alcune immagini della precedente ripresa. Ecco proprio il sinistro che ha caratterizzato questa prima ripresa. Eccellente il lavoro della squadra esterna 1 di Firenze e del regista Balani che hanno riproposto con tempestività il momento migliore della prima ripresa. Ed ecco qui Gianfranco Rosi. Abbiamo parlato della grande difesa del suo titolo di Gianfranco. Ecco qui a fianco di noi. Benvenuto Gianfranco. Gli applausi che ti hanno salutato sono gli applausi di tutta l'Italia per la tua esibizione in Francia. Sì, beh, sono grati anche perché abbiamo riportato questo titolo. Io ci tenevo in maniera particolare e siamo riusciti anche a fare un bello spettacolo. Bene, avremo modo comunque di parlare con Gianfranco Rosi nel corso di questo incontro. Intanto vediamo Efrem Calamati che stringe un po' i tempi. Anche tra lungo ha cominciato la seconda ripresa più determinato. Ma Calamati ovviamente non può prescindere se vuole ecco i colpi di Efrem toccato a sua volta da Tralongo che dimostra di valere la chance tricolore che gli è stata data. Dicevamo che Calamati se vuole mirare al mondiale Bubio contro Gonzales non può prescindere dalla difesa del suo titolo tricolore contro Maurizio Tralongo. Per cui un sinistro volante di Tralongo che arriva al volto di Calamati. con il destra del campione. Un campione che si dice abbia messo la testa definitivamente a posto. Ora un atteggiamento un po' disinvolto. Calamati viene pizzicato dai sostenitori di Tralongo. Un atteggiamento forsemente distratto da parte dei Calamati. Non muovo a questi atteggiamenti sul quadrato. Preso sul tempo Calamati da parte di Tralongo. Ottima l'azione di Maurizio Tralongo nella circostanza. ha bruciato sul tempo il tentativo di attacco da parte del campione d'Italia. Ed è giunto il segno con un buon colpo. Ora Calamati risponde senza comunque affondare i propri colpi. Uno, due di Calamati. Ancora il destro di Calamati. Barcolla a Tralongo che pare sentire i colpi di Calamati quando il campione va a segno. Abbiamo già visto nel sinistro nel corso della prima ripresa ora il destro di Calamati ha procurato problemi a Tralongo che tenta di reagire. un po' troppo disinvolto Calamati evidentemente si sente sicuro dei propri mezzi a vuoto Tralongo si è fatto comunque più attento Calamati dopo quel destro volante del suo sfinante e termina anche la seconda ripresa una seconda ripresa in favore del campione probabilmente ora Balani ci riproporrà l'episodio chiave anche della seconda ripresa intanto con Gianfranco Rosi vi è anche Alvaro Chiavolotti che è lo sponsor dei nostri due campioni mondiali sia di Rosi che di Parisi intanto vediamo prontamente l'episodio che abbiamo appena chiamato di Rosi ovviamente e di Parisi e lo sponsor anche di Calamati Chiavolotti non occorre ci dice parlare con lo sponsor eccetera ma occorre dare a Cesare quello che è di Cesare abbiamo detto che Chiavolotti è l'uomo che ha permesso a Gianfranco Rosi di imporsi in tutto il mondo per questo suo stile particolare fatto di volontà che cosa porta a sostenere tutti questi pugili in questo momento mentre intanto è cominciata la terza ripresa per me è una grande soddisfazione io non mi vorrei ritenere come sono come te dici lo sponsor però per me questi ragazzi sono tutti i ragazzi che io cerco di aiutarli perché ci vogliono delle persone per aiutare questi pugili perché se non avessero delle persone come me come farebbero andare avanti però io faccio questi che sono sacrifici in definitiva finanziari però li faccio volentieri perché questi ragazzi danno veramente soddisfazione questo per dire mentre intanto Calamatti prosegue nella sua azione per dire che senza supporto economico voglio dire anche il pugilato professionistico soprattutto non avrebbe non potrebbe esistere intanto la superiorità di Calamatti comincia a evidenziarsi sempre più nel corso di questo incontro ha un soltanto un timido tentativo di cambiamento di guardia tra l'ongolo poi torna in guardia normale arriva col destro ma incrocia il sinistro di Calamatti c'è un buon numero di sostenitori di Trolongo presenti qui a Gualdo Godino sinistro di Trolongo schivato di massima precisione da parte di Calamatti si incrociano poi i colpi dei due pugili non precisissimo Calamatti in questa terza ripresa a vuoto Trolongo rientra Calamatti Calamatti un pugile dotato di notevole classe viene pizzicato dai sostenitori di Trolongo Calamatti colpisce al bersaglio grosso Calamatti nel tentativo di far abbassare la guardia a Trolongo si chiude bene Trolongo ottimo il gancio sinistro di Calamatti poi va a vuoto Trolongo destro di Calamatti lavoro ai fianchi da parte di Trolongo poi qualche colpo parte anche dopo il gong comunque sono colpi volontari portati più dalla forza di inerzia che dalla volontà e finisce la terza ripresa una ripresa sostanzialmente su un piano di parità Gianfranco allora l'hai già detto in domenica sportiva confermiamo questo tuo proseguire nel dare lezioni di preparazione fisica e di intelligenza pugilistica abbiamo ritirato fuori non abbiamo messo dentro il cassetto l'idea di ritirarci perché mi sembra anche giusto viste condizioni insomma fisiche mie viste la mia ambizione togliamo questi equivoci insomma c'è questa mia voglia di unificare questo titolo credo che merito se vogliamo usare questa parola dopo la fine della carriera e quindi finirò sicuramente con questa unificazione di titoli speriamo che venga entro quest'anno ma sono sicuro a questo punto bene Gianfranco intanto torniamo al titolo italiano dei superleggeri tra Efrem Calamati campione l'ospedante Tra Longo siamo alla quarta ripresa fino a questo momento vi è una leggera superiorità di Efrem Calamati una superiorità che si è evidenziata nel corso della seconda ripresa con Calamati in grado di andare a segno con maggior lucidità tuttavia occorre subito dire che Maurizio Tra Longo ha già dimostrato nel corso delle prime tre riprese di militare ampiamente la chance che gli è stata concessa di poter si batte per il titolo tricolone lo sfidante era la grasta che ha dovuto rinunciare destro di Calamati reagisce Tra Longo ma incappa ancora nei colpi di Calamati che è sicuramente più lucido tocco di nuovo Calamati a vuoto Tra Longo può si appare un po' intimorito Tra Longo pur avendo fatto vedere qualche colpo di buona fattura pare un po' intimorito soggiogato forse dalla personalità di Calamati prova un'azione Tra Longo ma è sempre molto vigile il campione italiano sinistro di Calamati che frena il tentativo di attacco da parte dello sfidante è un incontro che vive di piccoli e frequenti episodi non è molto intenso ma vedete ecco eccellente l'azione di Calamati ha aspettato l'azione dello sfidante e ha colpito l'incontro molto bella questa azione del campione italiano e per il Calamati lavora con un allungo Calamati ancora il sinistro del pugile Aretino a vuoto poi e termina termina la quarta ripresa una quarta ripresa che non ha detto molto molto ma che occorre attribuire una preferenza almeno a Calamati proprio per la maggiore lucidità per l'attività superiore che ha svolto nel corso di questa ripresa ma approfittiamo della presenza di Gianfranco Rosi non si è detto in tutte le interviste una cosa mentre il regista Balani ci ripropone alcune immagini della precedente ripresa non si è detta una cosa ma Dele dopo l'incombattimento che cosa ti ha detto qualche cosa mi abbiamo visto parlare che ti ha detto no quello che ho detto io ho avuto chiarire una volta per tutte che questa volta salutami a Monte Carlo forse avevi qualche ragione in più di non salutarmi perché è stato un match da parte tua ha fatto molto bene quindi hai hai anche dimostrato di essere un campione e di avere diritto alla chance però questa volta hai perso nettamente quindi salutami lui ancora questa volta voleva non salutarmi poi alla fine piano piano si è convinto l'ho incontrato il giorno dopo è venuto là nel ristorante mi ha stretto la mano e quindi credo che sia tutto quanto passato oramai non c'è stata non c'è stata molta sportività nei suoi confronti grazie Gianfranco intanto è cominciata la quinta ripresa sembra più determinato tra lungo in questo inizio di quinta ripresa si volta verso l'arbitro Calamati non comprendiamo il perché forse ha sentito una voce dell'arbitro erroneamente comunque tutto regolare il combattimento va avanti molto abile dello schivare gli attacchi di tralongo è per Calamati si fanno sentire anche i tifosi del campione italiano è buono il destro di tralongo che va a segno ma Calamati riesce con un pronto retramento ad asmortizzare l'effetto principale del colpo molto chiuso nella sua guardia tralongo sinistro volante di tralongo che va a segno questa volta reagisce Calamati o perlomeno tenta di farlo ha qualche problema in questo ultimo scorso di incontro Calamati a entrare nella stessissima guardia di tralongo ecco va a segno ora Calamati una fase non troppo lineare in questo momento dell'incontro siamo nella quinta ripresa ricordiamo termina termina la quinta ripresa una quinta ripresa in assoluta parità Chiavolotti in grado di sostenere fino in fondo l'attività di Rosi si parla di questa riunificazione dove servisse uno sforzo pronto a farlo io penso che l'ho seguito finora dall'inizio finora non vedrei perché dovrei lasciarlo al momento più buono non l'ho lasciato quando ha avuto dei problemi che aveva aperto l'Europeo e poi quando aveva aperto il Mondiale con Doncheri a Sanremo sono stato sempre lì al suo fianco per poterlo riportare agli alti livelli ora che ha secondo me ha coronato il massimo di quello che poteva fare nel pugilato italiano sono sempre pronto dietro di lui certo indubbiamente un ottimo sodalizio direi avete fatto voi perugini voi umbri soprattutto abbiamo fatto una piccola storia del pugilato possiamo dirlo è vero è vero Gianfranco hai aperto un capitolo a parte si potrà obiettare sul tuo pugilato chi piace o chi non piace ma tu hai aperto comunque un capitolo diverso del pugilato mondiale o del D'Arteneato e siamo alla sesta ripresa Efrem Calamati e Maurizio Tralongo incontro fino a questo momento che Calamati sta controllando interviene l'arbitro Montagnini arbitro di Perugia destro di Tralongo poi il sinistro di Calamati piega le gambe lo sfidante Calamati si getta sull'avversario per tentare di sfruttare il momento favorevole lega prontamente Tralongo per impedire al campione di colpire di nuovo va a segno Calamati a vuoto Tralongo e la sensazione avvertita già nelle prime riprese e Tralongo indubbiamente sente i colpi di Calamati ogni qualvolta il campione italiano va a segno in maniera chiara pulita per Tralongo sono grossi problemi a vuoto tra Tralongo ottimo sinistro l'incontro da parte di Calamati Indubbiamente da parte di Calamati vi sono degli squarci di pugilato vero molto lucido molto lucido nello schivare gli attacchi dello sfidante il campione riparte con il sinistro a segno Calamati a vuoto a vuoto Tralongo molto disinvolto Efrem Calamati pugilato bello a vedersi il suo ancora una dimostrazione di lucidità pugilistica da parte di Calamati doppia schivata e rientro ebbene non riesce a partire Tralongo il sinistro del campione è lì grande sinistro incontro di Calamati schivata e colpo d'incontro la box è tutta qui d'accordo è tutta qui la box si perfetto Tralongo è un bersaglio facile a colpire e termina la ripresa la ripresa nettamente in favore di Calamati che sta portando il match sul piano che maggiormente preferisce con una tattica maggiormente attendistica peraltro Tralongo oltre a una discreta generosità non mostra di poter fare altro in questo momento in questo incontro contro un pugile che in quattro classe lo sobrasta nei tuoi momenti di ritiro mistico prima degli incontri intanto Balani ci ripropone le fasi principali della ripresa ecco il sinistro eccellente schivata il sinistro e l'ha accusato ha piegato nettamente le gambe poi ha tentato Calamati di approfittare dicevamo in quei momenti in quei mesi di ritiro mistico quante volte ti è venuta la voglia di dire mollo tutto vado a farmi una bella mangiata e arrivederci a tutti no la mangiata al limite la puoi anche fare sono una grossa buffata giusto per a livello psicologico però di lasciare no perché dopo vent'anni passa ami quello che fai quindi voglio dire amo il pugilato e se non ho lasciato nei momenti qui forse teoricamente dovevo lasciare adesso magari sarebbe assurdo anche se tra virgolette uno si potrebbe sentito arrivato certo no io credo che il pugilato vada vissuto finché uno si sente la voglia di stare sul ring e fare il sacrificio grazie Gianfranco intanto seguiamo l'incontro per il titolo italiano la settima ripresa un incontro che ormai sembra perlomeno essersi incanalato sul binario favorevole a Efra e Macalamati il vario di classe tra i due pugili appare sempre più marcato il volto di Tralongo e Gonchi buono il destro dello sfidante che va a segno eh sì anche Calamati ha un cenno di assenso con il capo guardando lo sfidante è stato simpatico il gesto dell'Aretino ha fatto un segno d'assenso l'avversario dicendo sì questa volta mi è preso reagisce tuttavia Calamati eccolo qui e questo è un caro segno che il colpo di Tralongo è arrivato a segno per cui Calamati deve dimostrare che il campione è lui oh destro violentissimo di Tralongo e Calamati l'ha sentito l'ha sentito e il match stava per prendere una svolta imprevista e imprevedibile anche se è sempre possibile l'è fucilato ha preso forse un attimo di sicurezza eccessiva da parte di Calamati è partito in destro di Tralongo comunque ha assorbito con sicurezza Calamati con i colpi di Tralongo ma Calamati era lì vigile colpi arrivati più che altro sulle braccia comunque il destro di Tralongo ha avuto il potere di bloccare l'attività di Calamati deve stare sempre molto attento evidentemente Calamati determina anche questa settima ripresa una settima ripresa che ha visto due colpi di Tralongo uno in apertura e una quasi in chiusura di ripresa nel mezzo l'attività di Calamati una ripresa per cui su un piano di parità tra Calamati e Tralongo sarebbe interessante vedere proprio il colpo di Tralongo l'ultimo che ora Balani dovrebbe mandarci con la consueta tempestività ecco qui Calamati in avanti molto di rinvolto anche troppo vedete schiva con sicurezza ora vediamo se il momento in cui Tralongo scarica quel destro volante eccolo qui in effetti è questo perfetta la regia ed eccoci l'ottava ripresa ottava ripresa un match vai da per il titolo italiano dei superleggeri il titolo ricordiamo è nelle mani di Efrem Calamati Calamati è alla terza difesa del titolo ancora Tralongo tenta di colpire riesce seppur di striscio ha preso coraggio comunque Tralongo da quell'episodio indubbiamente probabilmente altrettanto probabilmente Calamati ha sentito quel colpo più di quanto noi si possa immaginare perché vediamo un qualche cosa in Calamati sei qualche cosina d'accordo Zafranco perfetto ha analizzato bene la situazione è un pochino più accorto è più perché non bisogna prenderlo sotto gamba perché è sempre un uomo pericoloso e poi sta facendo un discreto match è meno brillante il campione italiano un particolare curioso da parte di Calamati che conquistò il titolo italiano nell'88 battendo Sabatole Nardino non ha mai difeso il titolo dopo la prima conquista passò subito all'europeo e questa terza difesa è la terza dopo la riconquista del titolo nei confronti di Bruno Bottero tenta di uscire dal corpo a corpo con un colpo vincente tra l'altro ma viene anticipato comunque oltre che più attento mi sembra anche meno brillante Calamati in questa ottava ripresa evidentemente sta tentando di digerire completamente quel corpo il testo è arrivato che era tornato completamente impreparato ora il suo destro che lo assegna buono buono il sinistro di Calamati l'incontro torpisce ancora tra l'incontro torpisce ancora tra l'incontro 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 sfortunato quello di Tralongo questo per dire che ha vinto che ha vinto sempre i punti vittoria prima del limite ma per ferita nei confronti di Guido Modena eccellente tuttavia la preparazione di Tralongo è assolutamente meritevole di questa possibilità di conquista del titolo mondiale siamo alla nona ripresa nella terza e ultima parte del combattimento previsto sulla distanza delle 12 riprese come di consueto un incontro che è filato via su un piano di parità una leggera preferenza ancora per Efrem Calamati una preferenza per la vittoria in un paio di riprese seconda e quarta e anche sesta se vogliamo tenta di girare intorno al proprio avversario Calamati vedete ha un grosso seguito Tralongo è una parte dell'asporto di Gualdo che è piena di suoi tifosi non mancano di incitarlo continuamente comunque ci sentiamo di ribadire quella sensazione avuta già in apertura della precedente ripresa e Calamati ha sentito più di quanto noi si possa immaginare quel destro di Tralongo e fa un po' di fatica a digerirlo pur essendo adesso dato segno con un ottimo sinistro ha cambiato notevolmente l'attesamento nell'incontro Calamati ha vuoto Tralongo ora Calamati sembra più mobile ecco sembra aver passato forse il momento più difficile il Tralongo è sempre lì sempre molto generoso un po' monocorde nei suoi attacchi ma sempre pronto a scuttare il minimo bersaglio che Calamati gli possa i prospetti davanti e termina anche questa nuova ripresa una ripresa che non ho detto molto in definitiva un incontro comunque che scorre via in maniera gradevole sono due pugili completamente opposti uno Tralongo con una grossa carica agonistica ma con un tasso di classe limitato per quanto riguarda l'aspetto pugilistico vero e proprio l'altro Calamati in possesso di un tasso di classe notevole che dopo l'inizio di studio è andato prendendo sempre più sicurezza fino a quella seconda parte di settimana di presa dove è incappato in un destro volante da parte di Tralongo che ne ha frenato un pochino l'attività un'attività ripresa poi proprio in chiusura di questa nona ripresa appena terminata mancano tre riprese al termine di questo incontro vai dopo il titolo italiano dei superleggeri ed eccoci alla decima Efrem Calamati Maurizio Tralongo sono due ventottenni di Arezzo Calamati Bresciano nato Tripoli Tralongo hanno un mese esatto di differenza Calamati è nato il primo luglio del 64 Tralongo il 2 agosto dell'opportunità di fare Fase di studio in questa decima ripresa parte Tralongo a vuoto 1-2 di Calamati molto bene a vuoto poi lo sfidante e Tralongo deve tentare solo unicamente di sfruttare la carta della sorpresa deve deve cogliere l'attimo in cui Calamati allenta un po' la tensione dell'incontro e partire con questo destro che è veloce e che ha messo a segno un paio di volte in maniera concreta Tralongo Tralongo ha chiesto all'arbitro di richiamare Calamati per la testa bassa Montagnini invece ha redarguito il Bresciano in quanto aveva abbassato la testa dell'avversario impedendogli di rialzarla molto attivo con il jab Calamati in questo scorcio di decima di presa ancora il sinistro del campione a segno poi il destro a vuoto Tralongo grande esibizione difensiva di Calamati nell'episodio precedente ora Montagnini richiama anche Calamati giustamente tenta il destro in uscita dalla corpo a corpo Calamati si incrociano i due jab a vuoto Tralongo il sinistro d'incontro di Calamati tenta il destro lo sfidante non giunge segno e termina anche la decima ripresa si seguono i rounds non cambia di molto l'equilibrio del combattimento uno combattimento che vede Calamati ancora in vantaggio 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 ripetiamo acquisito nel corso delle prime riprese fino alla sesta in particolare poi dopo una settima ripresa che Calamati è riuscito a raddrizzare a fatica l'ottava la nonna e la decima sono corse via su un piano di assoluto equilibrio intanto abbiamo visto alcuni scorci del palazzo dello sport di Gualdo Tardino ripetiamo un gremito in ogni ordine dei posti grande successo questa serata organizzata da Renzo Spagnoli in collaborazione con il comune di Gualdo ed eccoci alla undicesima ripresa Efremi Calamati Maurizio Tralongo un Toscano e un Lombardo un Aretino e un Bresciano sinistro questa volta di Tralongo che anticipa il campione i sostenitori di Tralongo invitano il loro beniamino a colpire ma riteniamo che Tralongo sia lì per questa specifica ragione intanto il sinistro di Calamati che si fa vedere in questo scorso di undicesima ripresa è un'esercizio fino a questo momento i due fuggili non ci sono scambiati praticamente colpi prova un destro dalla distanza tra l'onoma non va a segno tenta di prepararsi la strada al destro il campione d'italia effetti scarico il destro non va a vuoto a vuoto tra l'onco e calamati si è fatto pizzicare una volta la seconda di teniamo ancora il destro che questa volta idralongo passa sopra il campione comunque un incontro da parte di calamati condotto a sprazzi senza grossa determinazione agonistica e siamo in chiusura di dicesima ripresa è chiaro che se calamati vorrà sfidare gonzalez per un eventuale mondiale dovrà fare un incontro leggermente diverso parlo con te gianfranco ci riferiamo a gianfranco rosi i mondiali hai una leggera esperienza mi pare poco beh per affrontare determinati pugni ci vogliono altre caratteristiche diciamo che calamati è un bravo tecnico uno che vede i colpi solo che purtroppo noi che non facciamo male dobbiamo acquistire altre cose quella convinzione quella determinazione che forse ancora gli manca da calamati la continuità è un ritmo superiore perché quelli sono sono pugni che hanno fermati solo con tanti pugni beh io credo che siete della stessa scuderia per cui potrai insegnare qualche cosa dire qualche cosa calamati nel caso che spagnoli e chiabolotti riescono a portarlo al mondiale fronte a un mondiale e ce la metterà tutta come tutti quanti noi quando affrontiamo un mondiale per vincere e siamo all'ultima ripresa un bel incontro comunque occorre dire come spesso accade quando sono di fronte i due pugni dalle caratteristiche completamente opposte tenta il il destro ripetutamente tra longo calamati molto vigile l'angolo di tra longo i suoi sottenitori lo invitano a dare tutto è chiaro che a questo punto l'unica arma in possesso della sfidata è quella di un colpo in grado di risolvere il combattimento ma abbiamo già ricordato che dopo il destro giunto segno nella settimana ripresa calamati ha messo un tantino più di attenzione in questo incontro grande sinistro l'incontro da parte di calamati un sinistro sul quale tra longo è andato quasi spontaneamente a vuoto tra lungo poi dopo richiamo ufficiale di montagnini a calamati è rimasto con la testa abbassata dopo l'impatto con le corde calamati e l'arbitro dell'incontro ha inteso richiamarlo ufficialmente un richiamo ufficiale forse forse eccessivo anche se montagnini aveva richiamato più volte il campione ora tra lungo si fa sforaldo incoraggiato dal richiamo ufficiale che comunque gli dà il vantaggio in questa ripresa vantaggio matematico a fondo il destro calamati che comunque non appare perdere la calma ancora colpo d'incontro del campione italiano a vuoto ancora tra longo ottima ottima esibizione di calamati difende e attacca l'incontro ancora termina l'incontro in maniera molto brillante con i due pugili impegnati a mostrare ancora più le loro caratteristiche di attaccante tra longo e di incontrista di ottima classe calamati la ripresa che va tra longo in virtù del richiamo decretato da montagnini alla campione italiano ma l'incontro che non sfugge a eprem calamati un buon incontro comunque un incontro corretto ecco li vediamo calamati alle corde rimane lì ecco questa è la pagina che ha portato al richiamo ufficiale e sinceramente sinceramente non ci pare che potessero esistere i presupposti per un richiamo perché calamati si stava difendendo le corde senza nulla togliere ci mancherebbe altro abbiamo fatto un'azione di difesa schivando dei colpi è rimasto lì ma abbiamo visto il reprise senza danneggiare l'avversario quindi credo che sia stata una cosa corretta sì forse montagnini ha fatto i conti la somma con altri episodi attendiamo il verdetto un incontro un bel incontro che tra l'altro è stato nobilitato dalla presenza di questo straordinario campione un campione straordinario dicevamo che ci ha fatto vivere dalla Francia dodici riprese di una intensità straordinaria grandissima il verdetto ripetiamo non dovrebbe sfuggire a Efrem Calamati mentre siamo qui ancora con Gianfranco Rosi che vedete inquadrato a fianco a noi ha avuto il suo da fare Gianfranco con i tifosi qui di Gualdo Tadino ed ora per Efrem Calamati poi lo chiederemo per avere conferma sia lo stesso Pugile che Arezzo Spagnoli che l'organizzatore chiederemo conferma dei progetti a lunga scadenza di Rosi l'abbiamo già sentiti ed eccoci al verdetto ufficiale eccoci al verdetto ufficiale sentiamo i cartellini due tre punti per Calamati ci stanno tutti sentiamo 119 l'arbitro per Calamati giudice 116 116 da parte di un giudice non sappiamo chi tra lungo Calamati giudice Pagatelli 118 non si capisce molto comunque tra lungo 115 sentiamo un 118 a un 115 ci siamo ecco sentiamo Ottolini Calamati 118 tra lungo 117 tra lungo 117 un punto solo vittoria per Calamati per cui un verdetto abbastanza confuso comunque sono tre punti anche se un giudice ha dato un solo punto a Calamati comunque come abbiamo detto due o tre punti ci stavano tutti non tutti si gradiscono il verdetto ma voglio dire Gianfranco adesso a parte tutto tra lungo un buon pugile ha dato tutto sul ring ha dimostrato di avere le chance per disputare un titolo italiano ma il verdetto si è cruzato si no volevo dire anche considerando il richiamo ufficiale fatto io credo che qui due o tre punti c'erano tutti a favore di Calamati perché è stato molto più tecnicamente si se riusciamo ad avere anche Calamati un momento si così mi pare dovuto mi pare dovuto due parole con il campione ecco se riesci a scendere Efrem così ecco qua Efrem non tutti hanno gradito il verdetto ma sia da Franco Rosi che noi stessi i due o tre punti li abbiamo visti tutti insomma innanzitutto voglio sapere chi è che non è convinto del verdetto se è un esperto i tifosi di due avversari ma i tifosi è giusto che si sfoghino quando perde un paesano e un amico è giusto che tutti si tieni al suo Efrem una velocissima eh lettura del tuo combattimento un combattimento sicuro poi nel settima ripresa sei incappato in un destro che comunque mi pare hai sentito si ho preso un destro ma ho preso bene l'ho sentito però vedi da una parte so bischero perché non savo prendere da una parte so contento perché mi sono dimostrato a me stesso non gli hanno bisogno dimostrare niente agli altri per dimostrare a me stesso che ero preparato fisicamente che ho sopportato il colpo quindi mi sembra un match non è stato brillante ma devo anche ammettere che io sono in preparazione per un mondiale venivo da un mese in preparazione forse ero troppo allenato secondo me mi sono riposato poco San Franco Rossi uno che dei mondiali se l'intende sostiene ma non ha dubbi che tu lo farai questo che in caso di mondiale chiaramente occorrerà avere una continuità nel corso dell'incontro per il superiore ma devo anche dire questo se dovessi fare il mondiale innanzitutto cambierai sparring innanzitutto due avrei almeno tre mesi di preparazione in tre mesi posso fare anche posso fare anche qualche riposo e poi posso fare anche il peso in tre mesi io ho fatto il peso in 40 giorni ho perso 8 kg è un po' troppo mi sentivo un po' debilitato e purtroppo il mio problema ora come ora è questo stare nei limiti di super leggeri se ce la faccio quest'altro match bene se no passano i vetri per un mondiale penso che ne valga la pena per un mondiale ne vale la pena però se devo sacrificarmi che mi sono sacrificato questa volta qui è dura perché quando si sale in sopra il ring si risente dopo io ho sentito un po' di affaticamento per via di questo peso che mi ha ammazzato veramente ti ringrazio F mi complimenti comunque arrivati presto per un mondiale speriamo mondiale in palio scusate l'anticipo ma scusate l'anticipo ma di più sono felici